Lei è la nipote di Peppo Nasone? Sì, allora questo giglio si chiama Deti, l'abbiamo dedicata a tutte le persone che non sono qui oggi e che vorremmo che stessero qua. Anche suo padre, è vero? Sì, infatti io l'ho dedicato alle persone mie care, al mio papà e alla stella più bella, all'angelo più bello che è tra le stelle. E quindi questa scuola è sua? Sì, mia, mia sorella e mia figlia. E quindi? E anche questa porta il nome di mio fratello. Ah, di? Sì, Mario Lodi 84. Mario Lodi 84, brava. Che altro c'è questa festa? Spero a tutti, a tutti i maestri di festa, a tutto il popolo emorano, una festa all'insegna dedicata. Quanti anni sono passati? Sono passati ben quasi quattro anni. Quattro anni dall'assegnazione? E quindi realizzate il vostro sogno? Sì, un sogno che sembrava non arrivasse mai, ma che oggi sembra più vicino che mai.